C'è chi si limita a molesti, chi mette in pericolo la sua ed altrui vita e chi, da ubriaco, veste i panni di novello Schumacher. Tutti però hanno dovuto fare conti nello scorso fine settimana con i controlli a tappeto messi in atto dai carabinieri della compagnia di Alba Adriatica. Il primo caso è quello dei due Rom, uno di 30 e l'altro di 27 anni, multati per ubriacchezza molesta e poi denunciati per ricettazione. I militari, che erano stati chiamati dal titolare di un bar, li hanno trovati completamente sbronzi mentre molestavano i passanti. Da un controllo della loro auto è emerso, tra l'altro, che era stata rubata due giorni prima a un giornalista di Colli. Sempre ad Alba i carabinieri hanno identificato il preposto per il ritiro della patente un operaio 38enne di Bellante, che giorni addietro, guidando ubriaco, aveva centrato un passeggino con la sua auto. È stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e si è rifiutato di sottoporsi agli esami alcolemici. L'ultimo episodio di questo tipo è avvenuto a Tortoreto, dove i carabinieri hanno sorpreso un commerciante di trentenne di Roseto, mentre guidava completamente ebbro. Gli è stata ritirata la patente ed è stato anche denunciato. Ma l'attività dei carabinieri, in ogni caso, ha riguardato anche un giovane muratore di origini albanesi, Admir Bega, di 19 anni. È stato sorpreso dai carabinieri mentre nascondeva due involucri, con 5 grammi di cocaina, nel vano di custodia del contatore del gas in una palazzina di Piazza del Popolo. La droga è stata sequestrata e il giovane, dichiarato in arresto, rinchiuso nel carcere di Castrogno. In manette anche Guido M., un santegidiese di 19 anni, che, trovandosi agli arresti domiciliari, è stato invece sorpreso al bar mentre si rinfrescava con una bibita. Insomma, tanto lavoro per i carabinieri vibratiani in questo intenso fine settimana.